E già il fatto, dopo un anno e poco più della tragedia della pandemia, il fatto che possiamo in una conferenza stampa dire rimbocchiamoci le maniche e si ricomincia, è già una grandissima notizia che non ci deve però far rimanere pigri, aspettando che il turismo si riaccenda. C'è la voglia, dobbiamo essere i più bravi a chiamare e poi quando arrivano i turisti ad ospitare. Questo è un compito di chi fa il Presidente di Regione, di chi segue una categoria, di chi serve al tavolo un piatto di nostro cibo prelibato, di chi deve pulire la città e allora si riaprirà. Vedrete quel bellissimo circolo virtuoso che abbiamo conosciuto e io sono convinto che conosceremo ancora. Grazie veramente a tutti.